Il daimoku del ruggito del leone non si lascia sconfiggere dal demone della malattia. La salute è un pilastro dei diritti fondamentali. Tutti desiderano vivere felicemente e in buona salute, in una società pacifica. Vivere con dignità, a prescindere dalle malattie o disabilità che si possono avere, liberi dalle preoccupazioni, dall'angoscia e dalle sofferenze provocate dalla malattia. Tutti desiderano riuscire a evitare i pericoli e i rischi derivanti da cattive condizioni di vita, fame e carestia o epidemie. Nel mondo attuale, la salute costituisce, insieme alla pace, uno dei pilastri di diritti fondamentali della persona e sta acquisendo un'importanza sempre maggiore in relazione al rispetto della dignità dell'individuo. Ad esempio, uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite mira ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Non posso fare a meno di determinare con forza di trasformare il XXI secolo nel secolo della vita, il secolo della salute, ovvero un'epoca in cui ogni singola persona possa risplendere maestosa come torre preziosa della vita, degna del massimo rispetto. Infondere coraggio e forza nelle persone Per quanto riguarda la malattia, il problema non è costituito semplicemente dai suoi sintomi, ma dal fatto che priva le persone della speranza di vivere, distrugge la loro quotidianità e la loro felicità e arriva persino a sbarrare le porte del futuro. Sono convinto che una religione sia un'autentica religione per l'essere umano solo se affronta in modo risoluto ciò che può essere definito come il demone della malattia, ovvero l'energia che porta l'individuo a soccombere e riesce a infondere nelle persone il coraggio e la forza di vivere. Noi membri della Soka Kakai, sempre pronti a impegnarci per aiutare le persone e a tuffarci tra coloro che soffrono ai margini della società, ci siamo costantemente incoraggiati a vicenda e superando insieme le varie difficoltà che sorgevano abbiamo fatto risuonare il canto di vittoria della vita. Questa è la nobile storia dei compagni di Fede Soka che sono sempre andate avanti con la promessa di schierarsi eternamente dalla parte delle persone comuni. Superare le sofferenze di invecchiamento, malattia e morte Il buddismo vede chiaramente la malattia, l'invecchiamento e la morte come qualcosa di inevitabile nella vita di un essere umano e mira a trovare le soluzioni per superare le sofferenze che ne derivano. Chiunque desidera essere in buona salute, vivere a lungo e trascorrere una vita felice, Non vi è dubbio che proprio per questo la saggezza del buddismo diffonde sempre più una luce di speranza. Nichiren Daishonin scrive La malattia di tuo marito forse è dovuta al volere del Buddha. Infatti, il Sutra Vimalakirti e il Sutra del Nirvana parlano di persone malate che raggiungono la buddità poiché la malattia stimola lo spirito di ricerca della via. Dal Gosho, la buona medicina per tutti i mali. Con questa lettera, il Daishonin incoraggiò con tutto se stesso la monaca Laika Mioshin che si stava prendendo cura del marito malato. I cinque caratteri di Mio Horengekyo sono la buona medicina per le malattie della gente di Jambutviva. E ancora, la malattia di tuo marito forse è dovuta al volere del Buddha. In questo modo riesce a trasmettere un profondo senso di sicurezza, pervaso dalla sua grande compassione. Per noi membri della Soka Kakkai, le sofferenze derivanti dalla malattia, che spesso ci troviamo ad affrontare in modo inaspettato, non sono qualcosa da rifiutare. Al contrario, nel momento in cui comprendiamo che sono una parte preziosa e insostituibile della vita, che stimola un processo indispensabile per il conseguimento della buddità nell'esistenza presente, ovvero per realizzare la felicità eterna, saremo in grado di sviluppare la profonda convinzione che la malattia è un'occasione e che proprio questo è il momento cruciale per far ardere una fede forte e coraggiosa. Dal goscio, l'apertura degli occhi. Così riusciremo non solo a superare senza dubbio questa prova, ma anche ad assaporare ancora di più la nostra vita e a realizzare una grande crescita come esseri umani. Il punto cruciale è come affrontiamo la malattia. Tutti i Buddha, Bodhisattva e le persone comuni possiedono allo stesso modo i dieci mondi e non possono sfuggire alle sofferenze di nascita, invecchiamento, malattia e morte. Si tratta del principio per cui nascita e morte sono originariamente intrinseche alla vita, dalla raccolta degli insegnamenti orali. Anche il fatto di ammalarsi, quindi, è una cosa del tutto naturale. Di conseguenza non è qualcosa di cui vergognarsi. A maggior ragione, non deve assolutamente essere considerato come una sconfitta nella vita. Tuttavia, a volte possono sorgere dubbi che portano ad angustiarsi, a chiedersi «Eppure sto praticando, perché mi sono ammalato?». Proprio in momenti del genere, essenziale una fede che ci permetta di reagire e comprendere che «la malattia forse è dovuta al volere del Buddha». È impossibile che una persona che abbraccia e sostiene la legge mistica non riesca ad aprire una breccia nel proprio karma. Non ha nulla di cui lamentarsi. Non ha nulla da temere. Il punto fondamentale è come affrontiamo il fatto di esserci ammalati. Con quale Ichinen ci alziamo e reagiamo. Un cuore che ricerca la legge buddista Nichiren Daishonin afferma «La malattia stimola lo spirito di ricerca della via. Dal Gosho, la buona medicina per tutti i mali. Lo spirito di ricerca è il cuore che ricerca la via del Buddha. Significa intraprendere il cammino che conduce al conseguimento della buddhità. Recitando Daemoku e affrontando la malattia senza lasciarci sconfiggere, possiamo espandere ancora di più la nostra condizione vitale di buddhità. Siamo in grado di vivere la vita in modo più profondo, più forte e nobile. Inoltre, possiamo ottenere il beneficio di vedere chiaramente il reale aspetto di malattia, invecchiamento e morte senza provare alcuna paura. Una forte fede e una preghiera tenace Il grande scrittore russo Lev Tostoy ci ha lasciato questa profonda visione. Dobbiamo pensare alla malattia come una condizione della vita inseparabile dall'essere umano. Lui stesso ha lottato incessantemente con la malattia. Tostoy afferma inoltre Non esiste malattia che possa impedire a un individuo di fare ciò che deve fare. E poi? L'essere umano è sempre in grado di compiere la propria missione, sia quando è malato che quando è in salute, senza alcuna differenza. Credo che solo riuscendo a considerare la malattia come una sofferenza connaturata all'essere umano si può comprendere la vera ricchezza della vita. Nel buddismo la malattia viene vista come una parte nata della vita, dalla raccolta degli insegnamenti orali. Affrontando la malattia, arriviamo a percepire profondamente quanto sia importante la salute e quanto sia preziosa la vita. Riusciamo così a riconsiderare in modo più profondo la nostra esistenza e la nostra missione. Il nostro hicinen di lottare contro il demone della malattia, la nostra forte fede e la nostra preghiera, tenace e incrollabile, infondono coraggio e speranza in tutti coloro che ci circondano. In questo modo manifestiamo la grandezza della condizione vitale che può essere raggiunta da un individuo. La buona salute e la malattia non sono due cose distinte e separate. La malattia equivale alla propria missione. NAMMYO HO RENGE KYO è come il ruggito di un leone. Nichiren Daishonin scrive NAMMYO HO RENGE KYO è come il ruggito di un leone. Quale malattia può quindi essere un ostacolo? Quanti membri della Soka Kakai hanno lottato e vinto coraggiosamente contro il demone della malattia grazie a queste parole che avevano inciso nel cuore? Il Daishonin scrive inoltre che sta pregando ogni momento del giorno per la guarigione di Kyo Gozen. Per una persona che mette il ruggito del leone di NAMMYO HO RENGE KYO nessuna malattia potrà mai costituire un ostacolo. Questo è l'incoraggiamento di Nichiren Daishonin. Volendo fare una similitudine quando il re leone rugisce tutti gli altri animali si sottomettono a lui tremando di paura. Facendo proprie queste auree parole del Daishonin i miei cari amici Bodhisattva della Terra del mondo intero hanno risvegliato e fatto emergere il coraggio di non lasciarsi sconfiggere assolutamente dal demone della malattia. Per quanto gli ostacoli i demoni possano fare a gara per interferire non riusciranno mai a ostacolare il nostro cammino che conduce direttamente al conseguimento della buddhità né tantomeno il sentiero verso la vittoria e la felicità nella nostra vita così come nel movimento di Kosen Rufu. Non ci lasceremo fermare da nulla. Finché faremo risuonare questa preghiera del ruggito del leone proprio come afferma il Daishonin le sfortune si trasformeranno in fortuna. Non vi è alcun dubbio che riusciremo a realizzare la vittoria di trasformare il veleno in medicina e di trasformare il karma in missione. Il Daimoku del ruggito del leone che il maestro e discepoli Soka recitano uniti non ha rivali. Non lasciarsi sconfiggere dalla malattia. Vorrei ora confermare che malattia e demone della malattia sono due cose ben diverse. La malattia in sé è una delle quattro sofferenze universali di nascita invecchiamento malattia e morte che fanno parte della vita di tutti gli individui nessuno escluso. Tuttavia a causa della malattia le persone tendono a sprofondare nella disperazione a rinunciare alla vita o a perdere la forza di vivere. Guardando le cose con gli occhi del Buddha poiché agisce come ladro di vita che priva le persone della forza vitale la malattia diventa un demone o una funzione demoniaca. Il punto fondamentale è riconoscere questo demone della malattia affrontarlo e attaccarlo con fede e coraggio. È essenziale decidere di non lasciarsi mai sconfiggere nel modo più assoluto. Essendo una lotta contro il demone della malattia se lo si attacca e si vince si può diventare Buddha Maestro e discepoli che recitano all'unisono Da giovane ho sofferto di tubercolosi ed ero di costituzione molto debole al punto che il medico mi disse che non avrei vissuto fino ai 30 anni. Sebbene mi schierassi sempre nelle prime file del movimento di coserrufu e mi lanciassi con tutto me stesso nelle battaglie per aprire la breccia della vittoria soffrivo di una febbriciattola costante e forti dolori in tutto il corpo. Un giorno ero talmente esausto che Toda non potendo fare a meno di notare il colorito del mio volto mi rimproverò con severità Daesaku mi sembra che manchi completamente di forza vitale non si può vincere una battaglia senza forza vitale. Poi mi portò con sé di fronte al Gohonzon dove recitò Daimoku affinché potessi recuperare forza ed energia per sconfiggere le funzioni demoniache. Il suo era davvero il rugito del leone. Ispirato e incoraggiato dall'affetto severo del mio maestro riuscì a far emergere la grande e impetuosa forza vitale di un leone. In questo modo fu in grado di mettere al tappeto il demone della malattia e di fortificarmi sempre più nel corso della mia esistenza fino a riacquistare la salute e beneficiare di una lunga vita per poter compiere la mia missione. Tutto ciò mi riempie di una gratitudine infinita. Nella raccolta degli insegnamenti orali viene spiegato chiaramente il significato del rugito del leone che è il suono del maestro e dei discepoli che recitano all'unisono. Grazie a questo Daimoku del rugito del leone basato sulla non dualità di maestro e discepolo la Sokakakai è riuscita a trionfare sulle avversità. Pregare con un forte Ichinen Quando Toda incontrava i membri gli venivano poste molte domande sulla malattia. Ciò su cui Toda si concentrava attentamente più di ogni cosa era se chi aveva posto la domanda avesse o meno il forte Ichinen di lottare con fede contro il demone della malattia. A coloro che in qualche modo tendevano a delegare all'esterno la responsabilità della guarigione a rassegnarsi o a nutrire dubbi nel cuore Toda dava guida con fermezza e passione proprio come un padre severo. La maggior parte delle persone nel momento in cui si trovano ad affrontare una malattia si lasciano sconfiggere nello spirito. Il mezzo per vincere le funzioni demoniache che indeboliscono lo spirito è il rugito del leone di Nammyo Horengekyo una persona che fa risonare nella sua vita il più potente rugito del leone non ha nulla da temere. Anche Nichiren Daishonin afferma nel goscio risposta a Kyoho ovunque tua figlia possa saltare e giocare non le accadrà niente di male potrà andare in giro senza paura come il re leone anche se ci dovessimo ammalare anche se dovessimo affrontare varie avversità se non dimentichiamo di recitare il Daimoku del rugito del leone saremo in grado di vivere come il re leone con serenità e senza paura questa è la prova concreta del passo del Sutra del Loto che afferma là gli esseri viventi sono felici a proprio agio ci sono casi in cui i bambini sono troppo piccoli per poter recitare da soli proprio come Kyo Gozen anzi molto spesso anche gli adulti nel momento in cui sono ricoverati in ospedale o stanno lottando duramente con la malattia trovano difficile fare Daimoku e Gongyo oppure a volte recitano Daimoku nel proprio cuore non potendo utilizzare la voce tuttavia il Daimoku del rugito del leone recitato dai loro familiari e dai compagni di fede li raggiunge immancabilmente il Daishonin afferma quale malattia può quindi essere un ostacolo è fondamentale e credere profondamente in queste parole con tutte le forze in diversi scritti Nichiren Daishonin incoraggia calorosamente i suoi discepoli che stanno affrontando la malattia giovani o anziani uomini o donne ad esempio incoraggia con tutte le forze la monaca Laika Toki incline a perdersi d'animo poiché malata da molto tempo scrivendole poiché sei una devota del Sutra del Loto non andrai incontro a una morte prematura e anche puoi contare sul potere del Sutra del Loto dal goscio l'arco e la freccia la esorta ad andare avanti con la profonda convinzione che sicuramente andrà tutto bene e senza dubbio sconfiggerà il demone della malattia sii profondamente convinta che la tua malattia non può durare e che non è possibile che la tua vita non venga prolungata prenditi cura di te e non affliggere la tua mente una forte condizione vitale quando Nanjio Tokimitsu si ammalò gravemente Nichiren Daishonin nonostante lui stesso non fosse in buone condizioni di salute ammonì al posto del suo amato discepolo i demoni malvagi che lo stavano facendo soffrire e voi demoni facendo soffrire quest'uomo state cercando di ingoiare una spada dalla punta o di abbracciare un gran fuoco o di diventare acerri i miei nemici dei Buddha delle dieci direzioni e delle tre esistenze dal goscio la conferma del sutra del lodo grazie all'appassionato e impetuoso rugito di leone del Daishonin Nanjio Tokimitsu riuscì a sconfiggere il demone della malattia e a prolungare la sua vita per realizzare la missione di propagare la legge mistica per quante prove legate alla malattia possiamo trovarci ad affrontare la cosa fondamentale è credere nelle potenzialità della nostra vita e continuare a vivere appieno fino in fondo la prova concreta della vittoria sulla malattia risiede in una simile condizione vitale flessibile ma forte desidero che tutti noi percorriamo fino in fondo la nostra esistenza creando felicità per noi e per gli altri avanzando costantemente da oggi verso il domani un passo dopo l'altro continuando a richiamare e risvegliare in noi stessi la saggezza per vivere fino in fondo lo sforzo di vivere al massimo nonché la compassione il coraggio e la creatività spero che ti sia piaciuto e possa esserti stato utile se è così metti un like per sostenere il canale e magari scrivi un commento qua sotto se non vuoi perderti i prossimi video iscriviti e metti la campanellina grazie per la visione a presto